Con il signor Raso Maurizio, presidente della formazione Raso Antonio, vincitrice del torneo terza edizione Sponsor League, insomma, si è appena conclusa la premiazione, finale che non si è giocata per le vicende analizzate nel dettaglio, ma siete comunque campioni. Io cosa posso dire? Diciamo che la vittoria era più bella avendo giocato nel campo, così sì, per l'amore di Dio abbiamo vinto, però non è la stessa soddisfazione di averla vinta sul campo. Per la finale rimane una bella coppa, un bel riconoscimento, in campo naturalmente sarebbe stata un'emozione diversa, però in finale ci siete arrivati giocando sul campo una bellissima semifinale, per esempio contro Sea Express che era una delle formazioni accreditate per la vittoria conclusiva. Sì, sì, no, dubbiamente noi abbiamo giocato delle partite un po' sudate, ma belle, e poi abbiamo appunto incontrato la Expo, quella squadra lì che era molto forte, però diciamo che alla fine l'abbiamo spuntata. Quello che posso dire è che è stato un bel torneo, eccezione l'ultima sera, però diciamo che ci siamo divertiti. Le chiedo se c'è una partita che è rimasta nella memoria con particolare insistenza e se vuole fare qualche ringraziamento particolare. Ma guarda, io ringrazio innanzitutto gli organizzatori, che non è facile mettere in piedi un torneo del genere, e poi ringrazio tutti i partecipanti, tutte le altre squadre, che secondo me abbiamo già giocato con sportività. E niente, speriamo che un altro anno si ripete, di esserci ancora, e non dico di arrivare magari i primi, però ci proveremo. Proverete la doppietta, complimenti ancora, buone vacanze e arrivederci all'anno prossimo. Grazie, grazie a tutti e una buona serata.